L'agenda ONU 2030 e i suoi obiettivi, le normative europee da soddisfare per le amministrazioni pubbliche, le aziende private, i cittadini, le azioni da effettuare nel quotidiano per riuscirci. Sono questi alcuni dei temi affrontati a Torino in occasione della celebrazione dei vent'anni di attività di Uomo e Ambiente, società di consulenza che divulga equità sociale e rispetto della natura e dell'ambiente. L'evento si è tenuto all'interno di Environment Park, il parco tecnologico che è tra i luoghi simbolo della città per i temi legati all'ambiente. I progetti di sostenibilità hanno bisogno sicuramente di essere espressivi della capacità di un'azienda, di un'organizzazione di contaminarsi e di interfacciarsi con tutti gli attori di un processo. Questo per garantire effettivamente che il progetto porti a dei risultati importanti e dei risultati poi effettivamente agiti nel tempo. In occasione dei vent'anni di attività i fondatori Nunzia Giunta e Mario Burrascano hanno organizzato un incontro di dialogo e scambio di competenze ed esperienze che mira ad ispirare e muovere all'azione altri soggetti della società civile. Noi abbiamo tre attività importanti da portare avanti. La prima è adottare un piano d'accelerazione trasformativa, quello che il nostro governo si è impegnato ad adottare in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso settembre 2023. Punto due è mettere in pratica il piano per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Punto tre è il nostro impegno a livello internazionale e quindi a livello europeo in vista anche delle prossime elezioni europee. Uomo Ambiente guida le aziende all'ottenimento dei certificati di sostenibilità facendo innanzitutto uno screening iniziale per capire dove l'azienda in questione si trova in quel momento e qual è l'obiettivo da raggiungere. Così da cucire su misura dell'azienda un percorso che sia sostenibile da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista temporale, per poi disegnare una sorta di roadmap che porterà appunto all'ottenimento di risultati. Uomo Ambiente è anche una delle 22 aziende piemontesi e 266 italiane ad oggi certificate B Corp a riprova della qualità della performance sociale e ambientale dell'azienda.